infortunato pura madù ragazzi seguimi su tutti i social che sono linkati sotto in descrizione ragazzi dovete seguirmi su tutti i social instagram vabbè ormai sono un instagram una star su twitter sto per diventare una star il gruppo telegram è un gruppo che ormai siamo sempre nella top 3 italiana per gruppi calcistici per messaggi tanto per farvi un attimino l'idea di che cosa abbiamo creato su telegram e poi gli altri social ragazzi dovrò sbaccare anche su tiktok perché mi manca tiktok detto questo voglio fare un video oggi un video oggi facciamo una cosa diversa facciamo un video e l'argomento di questo video sarà prima Totti perché Totti continua a mettere like e qua e là così tanto mi sembra un po' dei like studiati arrivati a un certo punto una volta te sbagli una volta due volte te sbagli tre volte alla quarta mi sembra di poter dire qualche considerazione la possiamo fare poi attenzione calcio e mercato perché Don Petrachi complimenti all'Inter per l'acquisto di Eriksen veramente complimenti all'Inter Don Petrachi secondo me c'è qualcosa da dire sono usciti dei rumors per esempio su Mandracola e altri calciatori oggi e li voglio un po' ricollegare a quello che è successo quest'estate partiamo però con Totti allora io diciamo Totti può fare quello che vuole chiariamo questo fatto intanto la batteria al 15% mi fa volare e mi fa sognare che questo video non lo finirò mai e mi dovrò buttare di sotto dal burrone Totti può fare quello che vuole può mettere like a questa quello a me mi può seguire su Instagram qualora volesse farlo il link è sotto in descrizione il problema qual è? il problema è che i comportamenti che sta avendo Totti adesso mi stanno facendo riflettere su quelli che lui ebbe quando era calciatore quando era calciatore Totti diciamocelo cioè qui e lì almeno una volta all'anno condiva diciamo la sua comunicazione di battute veramente legate al mondo romanista cioè nel senso le battute sulla Lazio le battute sulla Juve le battute contro l'Inter anche la dichiarazione che fece dopo il Roma-Inter che ha regalato all'Inter la qualificazione in Champions League quando io vi dissi che la Roma l'avrebbe superata con l'errore di Rocchi sul fallo di Zagnolo ecco dopo quel Roma-Inter e anche in quel caso Totti che era ancora sotto contratto con la Roma mi dava l'impressione di parlare come veramente un romanista concluso il suo rapporto contrattuale con la Roma mi sembra che la questione sia un po' cambiata io mi ero fermato a commentare delle parole che lui aveva detto su Dazon riportate è evidente che il riporto di quelle parole era leggermente sbagliato però non mi sembra che lui quando ha parlato dopo che è andato via dalla Roma ha avuto delle parole ecco romaniste ragazzi mi sembra veramente che lui si è voluto staccare e allora io ti dico tu puoi avere il comportamento che vuoi ci mancherebbe perché sono sicuro che adesso gli interisti considerano Marotta il più interista di tutti ma è chiaro che Marotta è un professionista vi ho fatto un esempio Totti non mi aspettavo che lui si staccasse così perché io ho sempre avuto un'idea di Totti veramente un'idea fraterna di Totti che mi rappresentava come romanista prima di tutto allora apriamo il capitolo campo e lo chiudiamo subito perché per me Totti era un dio del calcio ve l'ho detto 50.000 volte non mi stancherò mai di ripetere perché ho visto un video dell'UEFA cioè delle giocate che capito quando pellegrini si dice pellegrini sì pellegrini qualche colpo ce l'ha ma pellegrini ha un colpo gioca 15 minuti a quei livelli Totti faceva tutti i 95 minuti quindi non possiamo neanche paragonarli quindi Totti sta su un altro pianeta noi a Totti gli avremmo perdonato tutti da calciatore cioè Totti poteva fare le peggio cose fuori dal campo avremmo comunque detto vabbè fa niente perché scende in campo ed è un dio del calcio e lo accetti così com'è però oltre a questo lui ci aveva messo dei comportamenti come ho detto veramente romanisti le prese in giro a Laziali a Jumentini di qua di là e il che quando accadevano queste cose noi eravamo tutti stracontenti e ci inorgogliamo un pochetto adesso che si è staccato contrattualmente da Roma mi sembra che questo suo modo di vedere il calcio e la vita è un po' cambiato un po' chiaramente magari per per convenienza lavorativa perché se adesso non sai se giochi con le altre insomma se devi avere rapporti anche economici con altre squadre quindi devi un pochettino raddrizzare il tiro però complessivamente non mi sembra di aver mai letto dopo che sei andato via da Roma delle parole dolci per la Roma non per la società a me che lui abbia dedicato con la società me ne può fregar di meno sinceramente però vi ripeto la mia visione cioè che Totti amava la sua Roma è una visione che io mi viene confermata ogni volta che leggo queste piccole cavolate oggi è uscito quel discorso del like messo a buffon sulla vittoria contro la Roma sono cose che ti puoi risparmiare cioè se tutti veramente tifi Roma non gli ometti il like a buffon pure se è amico tuo cioè quando Neschio mi fa la storia e mi prende in giro che sto a perdere 3-0 con la Juve io non lo ricondivido perché è un amico mio Neschio non me ne può fregar di meno cioè io sto tifando la Roma gli ho fatto questo esempio non me ne può fregar di meno capite cioè se Buffon è un amico mio e mi mette a vittoria la Roma bella vittoria non gli ometto vieni che è un amico mio e si mette la maglietta da Lazio il coso i 100 anni i 120 anni non me ne può fregar di meno capite piccole cose un tifoso romanista per come io lo dipingevo secondo me non avrebbe messo quei like non avrebbe avuto alcuni atteggiamenti che lui ha avuto liberissimo di farlo non vi sto dicendo questo però mi fa un attimino ripensare agli atteggiamenti che lui ha avuto quando era calciatore allora io vado a riflettere allora dico non è che abbiamo fatto passare a Totti molti comportamenti o comunque la narrazione di Totti c'è stata fatta in un determinato modo anche perché lui ha avuto quegli atteggiamenti che forse erano studiare perché allora quando va a fare il pollice il pollice all'ingiù alla Lazio perché stava andando in Serie B mi viene da dire che in quel caso tu lo stavi facendo per prendere il favore dei romanisti non perché pensavi di farlo così come sfottò capito quando in conferenza stampa prendeva in giro la Lazio perché innanzitutto ha capacità comica questo ve l'ho sempre detto ed è sintomo di intelligenza però mi viene da pensare che all'epoca allora tu lo facevi così perché potevi pensare che avere i tifosi dalla tua parte era una cosa era una cosa importante per te non perché veramente lo volessi fare e quindi io vi ripeto secondo me Totti amava la sua Roma e non la Roma in termini generali il problema è che non c'è la sua Roma la Roma di De Rossi la Roma di non lo so di Pellegrini o di Florenzi cioè c'è una Roma e basta e quindi si dovrebbe amare la Roma così com'è detto questo ragazzi detto questo ragazzi Totti può fare quello che vuole a me sinceramente non interessa e io non vedo sinceramente nel breve periodo un Totti che ritorna nella società a essere Roma perché penso che il suo percorso ormai lui l'abbia scelto forse tra 10-15 anni potrà rientrare ma nel breve io non lo rivedo che rientra questo è il mio pensiero sulla questione Totti passiamo al calciomercato perché poi le vicende di oggi importanti sono quelle legate al mercato perché Fonseca sembra un po' irritato sinceramente io non credo tanto al fatto che lui sia irritato ma quanto al fatto che lui sia veramente demoralizzato perché è evidente che anche per l'allenatore ci sta mettendo la faccia perché sul suo curriculum ci sarà scritto il risultato di questo campionato e poi paglierà a spiegare a chi legge il curriculum che ci ha avuto record di infortuni del mondo ci sarà un video sugli infortuni e sulle un video sugli infortuni e sul modo di giocare della Roma statistiche importanti della Roma intanto clicco qui voglio vedere un attimino voglio vedere quanto sta il video vabbè il ciugare magari si spegne così e faccio una chiudura spettacolare il discorso il discorso che vi voglio fare sul calciomercato è che secondo me potremmo avere delle sorprese come abbiamo avuto quest'estate io mi ricordo quest'estate c'era tutto questo cifrare Aldel Vare del qua di là ho già fatto i complimenti all'Inter per Eriksen non mi ricordo Aldel Vare Aldel Vare Aldel Vare poi nel silenzio generale Petrachi già sfornano Miki Darian e Smalling ed erano stati due grandi colpi quest'estate io non sottavoluterei un nome a sorpresa oggi per esempio è uscito il nome di Mandragola potrebbe essere lui l'uomo a sorpresa è chiaro che Mandragola non è che ti viene a spostare chissà quanto perché poi il ragazzo del 97 mister 20 milioni di euro dalla Juve all'Udinese non credo che venga qui a spostarti chissà quanto però intanto ti viene a mettere una toppa al infortunio di Diavara che chiaramente ti ha tagliato le gambe al centrocampo già avevi un centrocampo corto si parla anche di questo Benedetto Vigliar dalla seconda divisione della Liga non so assolutamente chi sia e cosa faccia nella vita apparentemente il calciatore però viene dalla seconda divisione spagnola quanto ti può dare in Serie A cioè capite magari ti può dare un apporto un anno prossimo tra due anni cioè nel breve quanto ti può dare arriva i Bagnez anche i Bagnez acquisto chiaramente ragazzi che non ti fa uscire nulla dalle casse oggi perché tutto è posticipato tutte le formule bla 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 però secondo me era un acquisto che si poteva evitare adesso ci siamo appuntati su Juan Jesus che non è capace a giocare a calcio va bene non sarà capace a giocare a calcio e spero che chiaramente che se dovesse arrivare Bagnez Juan Jesus sia piazzato alla Fiorentina perché altrimenti se dovessimo rimanere con tutti questi difensori a questo punto dovremmo cambiare modulo per forza e metterci con la ripesa 3 però complessivamente non mi non mi stupirei ecco di un nome a sorpresa da parte della Roma voi direte a chi stai pensando in realtà ragazzi non lo so perché il mercato è strano perché molte trattative che venivano date per fatte o comunque che venivano date per indirizzare vi faccio un esempio qui su questa piattaforma qualcuno un grande esperto di mercato ha dato per ufficiali De Paul e Giroud all'Inter non mi sembrano trattative che si sono concluse e che stanno prendendo quell'indirizzo Politano per esempio che andrà al Napoli qualcuno due o tre giorni fa mi scrive Politano va al Napoli e l'ho bloccato poi dopo però intanto lui l'ha scritto e non mi sembra che Politano sia andato al Napoli ancora secondo me ci sono tante cose che si devono andare a incrociare è un mercato invernale abbastanza attivo che ci regalerà secondo me delle sorprese alcune squadre si sono rinforzate è evidente che l'Inter comunque con Moses e Young qualcosa ha messo dentro rispetto a quello che aveva la Roma ha apparentemente preso solamente i bagnetti perché poi anche lui deve fare le visite lunedì dovrebbe essere un calciatore della Roma lunedì questi bagnetti che non conosciamo non conosce nessuno rispetto a quello che ha perso con gli infortuni è chiaro che non li sei andati a sostituire ma mi viene da dire ragazzi ma chi può prevedere questa mole di infortuni nessuno adesso noi stiamo andando al derby e la Lazio si presenta al derby con 37 partite mancate dai suoi calciatori rosa la Roma 111 la mentalità ecco voglio chiudere il video così la mentalità ragazzi la mentalità immaginate una Lazio che gioca per esempio con le riserve con Patrick Vavro e Caseto non la dovete immaginare in realtà è la Lazio dell'Europa League è una Lazio che è uscita nonostante la grandissima mentalità adesso ho fatto l'esempio della Lazio ma potrebbe essere qualsiasi altra squadra ciao Tattico e ciao a tutti quanti